A leggere gli ultimi dati sull'apicoltura in Italia si resta davvero sorpresi. Si calcola ci siano 1.200.000 alveari distribuiti nelle varie regioni, 45.000 apicoltori censiti, di cui 20.000 che fanno dell'apicoltura una professione o una fonte di reddito significativa. La comparsa però di nuove patologie in Europa impongono l'acquisizione di competenze specifiche da parte dei professionisti che operano in questo comparto della zootecnia. Per approfondire questi aspetti a Teramo si è svolto il primo convegno nazionale SVETAP organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, dalla Società Scientifica Veterinaria per l'Apicoltura e dall'Università degli Studi di Teramo. L'IZS di Teramo in particolare possiede un elevato livello di competenza tecnica nel settore delle anagrafi animali. Dal 2015 poi è stata istituita anche l'anagrafe delle api per la tracciabilità di questi piccoli animali che rappresentano un pilastro fondamentale per l'agricoltura. Quali sono le malattie che colpiscono maggiormente le api? Purtroppo le api non fanno eccezione rispetto ad altri animali e rispetto allo stesso uomo, nel senso che ci sono molteplici agenti di malattia, di natura molto diversa tra loro. Possono essere protozoi, possono essere batteri, possono essere virus, possono essere altri insetti, possono essere coleotteri. Pericolosi per l'uomo? No, direi di no. Ci sono malattie direttamente pericolose per l'uomo delle api. I danni possono essere indiretti, nel senso che ci potrebbero essere, ma è solo un'eventualità naturalmente, delle contaminazioni del miele che provengono dal trattamento farmacologico che è stato fatto sulle api, anche se fortunatamente non è un evento frequente. Il convegno nazionale Svetap che si è svolto all'ospedale veterinario dell'Università degli Studi di Teramo ha avuto il merito di facilitare la condivisione di diverse esperienze, informazioni e metodologie tra gli operatori del settore apistico che hanno esigenze del tutto nuove alla luce del panorama normativo vigente nelle diverse regioni.